Damiano Catania, un bel 3-0 che nasce dalla difesa, soprattutto anche per merito tuo. Un 3-0 sudato, non era una partita facile perché il livello in campo si equivale. Siamo stati bravi con la difesa, un po' anche con tutto quello che avevamo. A te rimpiedi il secondo set e poi il terzo set anche bravi a recuperare. Adesso sabato arriva Verona, che è una partita ovviamente importante per il fine della classifica e anche per proseguire. Come l'affrontate? Come tutte le partite di questo girone, sono importanti per il nostro morale, stiamo facendo bene. Abbiamo fatto tre belle partite e dobbiamo continuare per arrivare fino alla fine, fino alla finale. In questo finale di stagione ti sei ritagliato davvero una parte importante in difesa, sei entrato in punta di piedi, ti sei guadagnato il posto, la fiducia dei compagni del mister. Io credo è una bella soddisfazione per te. Sì, sono contento di poter dare un piccolo contributo alla squadra. E' nulla, tutto qua. In questo momento state dimostrando di essere la squadra più in forma. Sì, diciamo che i risultati però dicono questo. Alla fine quello che conta è vincere questo playoff e si vedrà alla fine. Vuole raccontare quella doppia difesa decisiva nel finale del secondo set, che ha un po' cambiato poi anche l'esito della partita. Istinto, un po' di fortuna e voglia di andare sul pallone, semplicemente questo.